Previsioni del tempo per giovedì 15 luglio su Puglia, Basilicata e Molise. Situazione generale. L'alta pressione causata dall'anticiclone delle Azzorre continua a coinvolgere il sud Italia, regalando così diffuse condizioni di stabilità atmosferica. L'arrivo di correnti d'aria calda dal nord Africa favorirà così un aumento della pressione che si accinge a dominare la scena per vari giorni su tutte le nostre regioni. Temperature in ulteriore aumento, clima molto caldo con punte prossime ai 37-39 gradi centigradi nelle zone più interne, venti deboli a regime di brezza, mari poco mossi o quasi calmi sotto costa. Vediamo ora le previsioni sulla Puglia. Il bel tempo continua a dominare la scena, supportato dalla presenza di un caldo anticiclone di matrice subtropicale, cieli sereni o parzialmente nuvolosi al pomeriggio sui rilievi e clima molto caldo. Temperature in ulteriore aumento, con punte prossime ai 37-39 gradi centigradi nelle zone più interne della Puglia, venti deboli a regime di brezza, mari poco mossi o quasi calmi sotto costa. Grazie a tutti. Autore dei sovrapposti